Aggregare, fare rete e proporre idee innovative per lo sviluppo dell'economia turistica calabrese. Questi gli obiettivi del secondo forum sul turismo promosso ed organizzato dalla rete Open Calabria che ha fatto tappa nella prestigiosa cornice del Castello Ducale di Corigliano Rossano. Imprenditori, professionisti e istituzioni a confronto per sperimentare nuove strategie per la promozione dei territori. Il turista oggi è un turista che chiede qualità, che è disposto anche a pagare molto di più rispetto a un turista medio, un turista del passato ma è un turista che vuole trovare nei luoghi di destinazione sistemi integrati di opportunità turistiche quindi vale la diversificazione e per fare questo processo di diversificazione, di intensificazione delle opportunità turistiche è necessario che i territori si aggreghino. L'evento ha ottenuto il patrocinio della Commissione Europea tramite il Ministero per lo Sviluppo Economico nell'ambito delle iniziative della settimana europea delle piccole e medie imprese. La nostra finalità è quella di aggregare operatori turistici e anche esperienze come quella di Camini l'esperienza dell'accoglienza diffusa, l'esperienza del progetto Imperia per esempio che sono progetti che partono dal basso e come succede un po' nei format europei ho una buona prassi, voglio che emerga e tramite Open Calabria questa buona prassi cercheremo di farla emergere durante il forum turismo e nelle successive iniziative. Marco Lefosse per la CNews24